è la cadde in cui nacque raffaello nel 1483 dove visse i primi anni della sua formazione quindi che lavoro faceva salva tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi un nuovo cinematic video di quelli che meritano tantissimo e lo faremo con lui il dj mini 3 pro e soprattutto lo faremo qui ci troviamo a urbino nella provincia di pesaro che si trova nelle marche questa città che è circondata dalle mura che è diventata famosa ai tempi del rinascimento e suo artista famoso è raffaello e qua tanta roba sono i palazzi le strutture architettoniche che ci sono voleremo appunto con lui dj mini 3 pro drone e 249 grammi qua abbiamo il limite dell'altezza dato da d flight che è di 45 metri quindi non supereremo quell'altezza ma c'è la possibilità di volare appunto stando sotto a quell'altezza con un drone 249 grammi possiamo volare comunque in questa piazza anche perché non c'è praticamente nessuno quindi non volerò su raggruppamenti di persone perché praticamente deserta quest'ora è l'orario pranzo dopo pranzo infatti guardate che caldo che fa sono lavatissimo è una giornata incandescente e appunto per questo è l'ideale per provare loro i filtri nd della freewell questi qua la versione diciamo standard quindi filtri nd classici la giornata è talmente limpida ragazzi guardate che cielo è pazzesco un sole incredibile è un cielo azzurrissimo e temperature da paura siamo intorno ai 35 36 gradi e andrà a montare appunto con questa luminosità l'nd 32 anche se forse ci starebbe anche un bel nd 64 perché il sole è proprio di quelli che spaccano in due il cielo estralipido comunque monterò l nd 32 e vedremo il risultato non li ho ancora provati questo il loro primo test e per provarli ragazzi la location così è sicuramente tanta roba e quindi ragazzi vi lascio in questo cinematic video con introduzione di urbino a terra e poi si decolla con dj mini 3 pro ma adesso direi di non perdere altro tempo anche perché sto morendo ragazzi sto morendo e quindi se il video dovesse piacere vi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tante novitante prime voli in fpv stampe 3d location dove vengono far volare i droni che questa location è arrivata su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test tutorial novità e adesso ragazzi buona visione da urbino andiamo lui raffaello grazie a tutti Grazie per la visione Fatta tutta? 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 Grazie a tutti. 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 Direi che di sudore ne abbiamo. Grazie a tutti.